Per la prima volta dalla ripresa in presenza delle elezioni nelle scuole della città di Salerno anche il sindaco Vincenzo Napoli è stato costretto ad emanare un'ordinanza per chiudere completamente un edificio scolastico. Si tratta dell'istituto comprensivo Calcedonia a seguito della positività al covid di diversi alunni e di personale. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha così ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza che potranno riprendere a far data dal 14 febbraio. Dall'inizio della ripresa in presenza delle elezioni nelle scuole come dicevamo per la città di Salerno questa è la prima ordinanza ma non mancano casi di contagi tanti anche in altre scuole dove si è ricorsi al momento alla messa in quarantena. In totale nella città di Salerno ieri sono stati registrati 38 nuovi contagi non solo nel mondo della scuola lo stesso sindaco si trova in questo momento in quarantena per essere stato in contatto con tre consiglieri comunali attualmente positivi ma a destare preoccupazione è in particolare la situazione dell'agro nocerino sarnese mentre gli alunni delle scuole superiori in quest'area della provincia di Salerno hanno deciso di non ritornare proprio in classe di aderire in massa ad uno sciopero di tre giorni. Tre sindaci precisamente quelli di Angri, Scafati e Pagani ieri hanno già deciso di chiudere delle scuole per casi di covid. L'ultima ordinanza in ordine di tempo è stata firmata ieri pomeriggio dal sindaco di Angri Cosimo Ferraioli per casi di contagio all'interno dell'istituto il primo circolo didattico Maria Fusco il sindaco ha sancito la sospensione delle attività in presenza per 14 giorni e imposto ai dirigente scolastico la sanificazione dell'intera scuola. Sono invece ben otto i casi di positività emersi tra alunni e personale scolastico dell'istituto comprensivo Tommaso Anarri a Scafati dove anche in questo caso il sindaco Cristoforo Salvati ha ordinato la sospensione di tutte le attività didattiche sino al 15 febbraio. Già ieri mattina invece a Pagani il sindaco De Prisco aveva ordinato la chiusura fino all'11 febbraio dei due plessi dell'istituto comprensivo Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Infine a San Valentino Torio per la positività di un bimbo che frequenta l'asilo di Via Curti come da protocollo è stata messa in quarantena la sola classe unitamente alle due maestre.